Alleluia, tornerà Gesù fratelli, tornerà, arriverà il momento in cui il cielo si aprirà e lui tornerà per prenderci. Noi lo stiamo aspettando, ma vogliamo che lui ci trovi impegnati, indaffarati per l'opera sua, per l'opera del cielo, per l'opera che lui stesso ha iniziato nella nostra vita. Leggiamo insieme soltanto due versetti, atti capitolo 14, voglio parlarvi di una lapidazione. Gloria a Dio, non facciamo poi come disse un noto fratello inglese che si chiamava Palmer, che adesso è con il Signore, c'era un fratello che meditava la parola di Dio aprendo la Bibbia. Chiudeva gli occhi e diceva, Signore, indicami la tua parola. E sembra che qualcuno, aprendo la Bibbia, sia andato a finire su uno di questi passi a proposito della lapidazione o del tradimento di Giuda. E non capendo, ha chiuso la Bibbia, ha detto, Signore, non ho capito, dammi un'altra parola. E l'ha riaperto, ha messo il dito su un verso e ce l'ha scritto, tu vai e fai lo stesso. Immaginate la lapidazione, tu vai e fai lo stesso. Quindi stasera troveremo qualcosa di molto bello in questo capitolo, 14, versi 19 e 20. Dio ci benedica. Signore, ti preghiamo, apri la nostra mente e il nostro cuore. Metti luce su questa meravigliosa parola affinché insieme possiamo essere saziati e tornare nelle nostre case con desideri rinnovati per fare il tuo volere. Ti ringraziamo ancora per tutte le belle testimonianze, anche per quelle testimonianze che hanno messo in evidenza la tua benedizione sulla famiglia. Grazie ancora, nel nome di Gesù benedetto in eterno. Accomodatevi, fratelli. Credo che tutti quanti voi vi ricordate che Paolo nella seconda epistola ai Corinti aveva citato questo brano, questo episodio, secondo Corinti al capitolo 11, al verso 25, Paolo aveva ricordato ai Corinti che lui dai giudei cinque volte aveva ricevuto 40 colpi meno uno, tre volte era stato battuto con le verghe, una volta era stato lapidato. Eccolo qui l'episodio, eccolo qui l'episodio. Quindi lui lo ricorda, ricorda anche altre cose. Tre volte ha fatto un naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesso nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E questo era il ministerio apostolico di Paolo. Non possiamo certamente misurarci con questo tipo di esperienze che Paolo aveva fatto, ma possiamo comunque capire quello che era dentro questo servo di Dio, apostolo del Signore. Una chiamata che non derivava affatto dalle circostanze, da quello che gli era intorno. La fede non è una questione che dipende dai nostri fatti, se vanno bene o non vanno bene. La fede dipende dal nostro rapporto che abbiamo realizzato con il Signore. Se è genuino nel bene e nel male, noi serviremo il Signore. Se è vero, se è ardente, se è forte, niente e nessuno potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il Signore. Momenti difficili vengono per tutti quanti, anche per l'apostolo Paolo. È un momento particolare quello dell'apostolo Paolo, ha appena predicato il Vangelo insieme a Barnaba ad Iconio, ha predicato all'Istra questo meraviglioso Evangelo, e all'Istra è avvenuto qualcosa di bello, di particolare, un paralitico, un zoppo, fin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Era stato guarito, Paolo ha fissato gli occhi su di lui e vedendo che questo paralitico aveva fede per essere guarito, dice il testo, disse ad alta voce alzati in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Improvvisamente la folla inizia a pensare, a immaginare che è successo qualcosa di straordinario in mezzo a questo Paese, in mezzo a questa città, e iniziano a invocare, a vedere in questi due missionari, due divinità che hanno preso forma, hanno preso corpo. E mi piace che Paolo e Barnaba fanno di tutto per convincerli che le cose non sono così. Spiegano alla città, guardate, che questo miracolo non è avvenuto perché io e Barnaba siamo capaci, questo miracolo è avvenuto perché Dio è vivente, il Dio che predichiamo, il Vangelo che vi annunciamo, è un Vangelo che viene dal cielo, è Dio che ha messo la sua parola nei nostri cuori. E la sua parola è una parola che spesso è accompagnata da segni. E questo è un segno, che noi siamo nella verità, questo voleva dire Paolo e Barnaba, questo è un segno, che Dio è con noi, questo è un segno, non pensate che noi siamo particolari, che noi siamo diversi da voi, non lo pensate. E pensate, fratelli, anziché essere contenti di questo discorso, si arrabbiarono, se la presero, anziché sottolineare l'umiltà di questi due missionari, di dire che gente umile, che bello, bello, fatici capire, niente. Si arrabbiarono, loro volevano che questi due, piuttosto che dire che erano degli uomini normalissimi, che avevano ricevuto la grazia di Dio, volevano che ognuno di loro dicesse la sua, che Barnaba dicesse io sono Giove, e che Paolo dicesse io sono Mercurio, perché li riconoscevano in questa maniera, no, no, tu sei Giove, no, io sono Barnaba, sono un uomo, no, tu sei Giove, e tu Paolo, tu sei Mercurio. Impressionante. Dice il testo che non abbiamo letto, con queste parole riuscirono, astento, a impedire che la folla offrisse loro in sacrificio, astento, dovettero lottare, perché fossero riconosciuti quello che erano, dei semplici uomini. Mica è finita lì, l'inferno ovviamente si mette in moto, l'inferno inizia a generare nei giudei invidia, gelosia, contenzione, e da Antiochia e da Iconio arrivano alcuni, proprio nel luogo dove era stato predicato il Vangelo, che iniziano a sobbillare la folla. Guardate un po', la natura dell'uomo, da che voleva farli diventare degli dèi, iniziano a lapidarli, li vogliono morti. Com'è l'uomo, eh? Poco mancava che costruissero due altari per queste due persone. E dagli altari alla morte si arrabbiano, prendono delle pietre, e iniziano a lapidare in maniera particolare Paolo, e dice il testo a trascinarlo fuori della città, credendolo morto. La furia, la rabbia, il peccato, non li aveva fermato, fino a che non pensavano che Paolo fosse morto. il brano con cui voglio parlare stasera a voi e innanzitutto a me, è proprio quello che viene dal verso 20. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui. Io di questo voglio parlarvi. I discepoli che venivano attorno a lui. Il valore della Chiesa. Qual è il valore della Chiesa oggi? Per me e per te. Ha un reale valore? Che valore ha? Umano? Che valore ha? Sociale? O è spirituale come valore? In questo momento avviene un miracolo straordinario. E il miracolo non è prodotto dall'Apostolo Paolo, ma è prodotto dalla fede di questi discepoli che non si conosce neppure il nome. Perché non è importante avere un nome. Non è importante avere un'etichetta. Per Dio avere un titolo non serve. Quello che conta è essere la Chiesa di Dio nel tempo in cui Dio ci chiama a servirlo. I discepoli venivano attorno a lui. I discepoli. Questo termine indica la Chiesa. Non sono credenti solo, ma sono credenti che sono diventati discepoli. Non vi parlo di apostoli. Non vi sto parlando di discepoli nel senso dei quattro Evangeli. Vi parlo di gente che aveva creduto alla predicazione e che aveva avuto nel cuore di crescere e di capire qual era la volontà di Dio nella loro vita e nella loro comunità. Per discepolo si intende, secondo un termine greco, uno che è seduto ai piedi di un maestro. non è uno che fa il maestro con gli altri. È uno che è seduto ai piedi di un maestro. e la Chiesa del Signore è fatta di discepoli perché siamo tutti quanti seduti ai piedi dell'unico vero maestro che è in grado di ammaestrare la sua Chiesa e di portarla avanti e questo maestro è il Signore Gesù Cristo. I discepoli indica uno che ha dato tempo per essere ammaestrato indica dà importanza a un concetto fondamentale la necessità di crescere per poter servire e non per poter essere servito. È straordinario come concetto teologico quello del discepolo. Cresce e si ammaestra per non diventare mai maestro ma per servire la società di oggi è diversa noi cresciamo perché vogliamo fare giustamente carriera e perché a un certo punto vogliamo che altri ci servano il concetto logico umano e nel mondo non è sbagliato ma nella casa di Dio è diverso noi cresciamo ci ammaestriamo veniamo ammaestrati ma ci facciamo ammaestrati per continuare a servire il Signore della gloria. tutti quelli che desiderano crescere e desiderano crescere per servire sono chiamati da Dio sappiate ve lo dico con certezza di fede che se in voi c'è il sentimento di crescere per servire avete una chiamata particolare che viene dal cielo perché nell'uomo non c'è il sentimento del servizio se si verifica in noi solo Dio può metterlo nella nostra vita è Lui che compie il volere e l'agire è Lui che mette il desiderio ed è Lui che ci mette poi al servizio ma io vedo anche qualcosa di veramente speciale in questa Chiesa che ripeto e ringraziamo Dio per questo questi discepoli compaiono senza avere un nome una precisa identità però si muovono insieme nessuno è separato dall'altro insieme si muovono e si muovono per in questo episodio per un bisogno particolare noi stiamo parlando stasera di culto per le missioni e stiamo parlando di una vita missionaria e stiamo chiamato stiamo parlando di una visione missionaria la nostra comunità questo ve lo devo dire la nostra comunità il fatto che abbia una visione missionaria non ha nulla di speciale all'Odi c'è la visione missionaria non c'è nulla di speciale perché la Chiesa di Dio è missionaria non c'è la possibilità di scegliere per la Chiesa di Dio ha il mandato non c'è la Chiesa più ritirata la Chiesa che vive per conto suo la Chiesa che si dedica a quello no la Chiesa di Dio è una Chiesa missionaria è una Chiesa che si adopera quando parliamo missionario è una Chiesa che si adopera perché l'Evangelo raggiunga tutti gli estremi confini della terra e Gesù l'ha detto ai suoi quando l'Evangelo sarà arrivato allora sarà la fine alleluia mentre i discepoli venivano attorno a lui ma attorno a chi? attorno a due missionari a due missionari nel bisogno sono discepoli che riconoscono la validità del concetto missionario non l'annullano non dicono a Paolo ma chi te l'ha fatto fare? non dicono forse era meglio che ti stavi zitto non dicono ma guarda in che stato si è stato ridotto si è stato disavveduto dice il testo si riuniscono attorno a lui indicando in un verbo bellissimo nel greco si abbracciano a lui si riuniscono e mettono intorno a lui una difesa straordinaria spirituale per dire non ti preoccupare noi stiamo con te ti appoggiamo in quello che stai facendo continua ad andare avanti perché noi preghiamo per te discepoli che venivano attorno a lui attenzione il termine attorno a lui non indica né davanti né indietro ma attorno perché Paolo dovrà girarsi intorno e vedere una chiesa non dovrà vedere davanti uno che si è posto davanti o indietro uno che si è posto indietro noi non vogliamo la chiesa di Dio non è fatta di persone che si mettono davanti e intralciano o indietro che tirano è fatta di gente che si mettono intorno all'opera di Dio e che la portano avanti alleluia che incoraggiano l'aspetto missionario che hanno capito che la loro vita spirituale ha abbracciato la causa più bella più straordinaria che è la salvezza dell'uomo alleluia e cosa c'è di meglio fratelli quello che viene fuori da questo verso a me commuove perché vedo una chiesa parlando dei discepoli che ha imparato a sostenere nella difficoltà Paolo è in difficoltà e questa chiesa non si tira indietro non dà l'incarico ad altri non chiama Luca il medico e dice cura Paolo perché Paolo è stato lapidato ma sa che in sé ci sono tutte le risorse per poter aiutare chi è nella difficoltà alla chiesa di Dio sappilo non manca nulla e non ha bisogno di nulla che è fuori dalla chiesa di Dio per sostenere chi è nel bisogno e nell'afflizione il balsamo di Galad è in mezzo al popolo di Dio e Dio l'ha dato perché noi possiamo essere chiesa a tutti gli effetti anche sotto il profilo del sostegno nella difficoltà non solo questa chiesa sostiene chi è nella difficoltà ma guardate che cosa straordinaria avviene questa chiesa porta nel vero senso della parola guarigione è morto ma questa chiesa si avvicina e porta guarigione nessuno ha imposto le mani nessuno ha tirato fuori l'olio o una pratica particolare si è solo avvicinata questi discepoli si sono solo riuniti intorno a lui e a terra dice il testo come morto qualcosa bisogna pur fare invece si avvicina si riuniscono intorno a lui lo circondano probabilmente iniziano a pregare e a intercedere per lui e mentre si avvicinano non fanno in tempo a formare una sorta di adunanza intorno a lui che Paolo si rialza che Paolo inizia a vedere di nuovo che Paolo inizia a respirare che Paolo inizia a vivere di nuovo la Chiesa del Signore è chiamata a portare guarigione perché guarigione qualcuno può dire ma è Dio che guarisce e nella Chiesa chi c'è? non c'è il Signore che porta guarigione non è lui che ha dato alla Chiesa i doni non è lui che dà i carismi non è lui che dà i ministeri non è la sua presenza che fa la differenza in mezzo alla sua adunanza la Chiesa non solo ha portato guarigione ma ha portato cosa c'è nella parola di Dio eh fratelli ha portato anche dice il testo mentre i discepoli venivano attorno a lui consolazione e sostegno che Chiesa siamo se non siamo in grado né di consolare e né di sostenere saremmo un'organizzazione come tante altre forse bellissima perfetta in grado di fare ma a che serve se la Chiesa non ha parole di consolazione per chi è nel problema per chi è nella tragedia provate a immaginare questi discepoli che si avvicinano a Paolo e che gli dicono qualcosa che lo incoraggia perché Paolo dovete sapere quando si rialzerà il giorno dopo stesso organizzerà un altro viaggio missionario non dirà voglio pensarci bene non dirà muovete un po' non dirà adesso ho bisogno di convalescenza non dirà adesso niente si organizzano e insieme con Barna vanno a gerba ora io mi sono chiesto qualcosa di importante se Paolo ha le possibilità di alzarsi e il giorno dopo di partire per gerba chi lo ha incoraggiato a proseguire se non questi discepoli che si sono radunati intorno a lui chi l'ha sostenuto chi ha provveduto le cure adatte perché dalla morte potesse ritornare a vivere appunto da poter continuare a proseguire l'opera di Dio nella sua vita consolazione e sostegno noi dobbiamo come Chiesa avere nel nostro cuore fratelli il concetto che siamo chiamati a essere di consolazione per chi è nel bisogno per consolazione non intendo la pietà di ogni giorno non intendo la carezza poverino non ti preoccupare vai avanti no di questo non abbiamo bisogno per consolazione intendo aprire lo scrigno segreto che Dio ha messo nella nostra vita e tirare quelle virtù celesti che servano a rialzare qualcuno che è nella difficoltà e nel problema a usare parole non nostre ma di vita eterna perché Dio le ha messe nella nostra vita a sostenere a incoraggiare non a battere a sostenere forse non sempre saremmo d'accordo con certi programmi non perché non siamo d'accordo vuol dire che dobbiamo bloccare se non siamo d'accordo noi pregheremo il Signore che lui porta avanti l'opera sua perché non sempre quello che pensiamo noi è quello che Dio pensa per l'opera sua consolazione e sostegno ma io ho notato anche un'altra cosa in questo verso che non esistono fratelli o sorelle troppo forti Paolo adesso ha bisogno della Chiesa Paolo chi l'avrebbe detto è un momento in cui Paolo ha bisogno dei discepoli l'uomo che è andato avanti e indietro portanto edificazione predicazione consolazione adesso lui è a terra nella Chiesa in mezzo a noi non ci sono fratelli troppo forti che non siano nel bisogno fratelli troppo forti che non hanno il bisogno di essere incoraggiati forse abbiamo un concetto a volte umano no? che vediamo certi fratelli che sembra che non hanno mai bisogno che sono sempre pronti a incoraggiare e non immaginate le tempeste che sono nei loro cuori a volte una parola adatta è in grado di sollevare dei cuori straziati appesantiti angosciati in combattimento nel loro servizio Paolo è colui che io personalmente avrei visto come l'uomo forte che non ha sicuramente bisogno dell'incoraggiamento invece Paolo è uno prossimo purtroppo alla morte grazie a Dio per l'intervento della Chiesa in questo momento grazie a Dio perché la Chiesa è riuscita a sostenere anche coloro che sembravano o che sembravano che non avessero mai avuto bisogno la Chiesa è chiamata a rialzare siamo chiamati a rialzarci gli uni gli altri non ritirare mai la tua mano quando vedi quel fratello che ha bisogno di essere rialzato potrai non essere contento di quel fratello o di quella sorella potrai anche essere tra virgolette che noi poi siamo così no? quasi quasi certe volte siamo pure contenti di certe situazioni che avvengono ad alcuni quella è la natura dell'uomo non c'entra nulla con la natura cristiana ricordiamoci che il Signore ci chiama a rialzare il Signore ci chiama a stendere la nostra mano verso chi è nel bisogno la Chiesa non solo è chiamata a rialzare ma addirittura a portare vita portare vita fratello ma è il Signore che porta vita ma non ha detto il Signore nel Salmo cento dentate che qui nella sua adunanza lui ha stabilito la vita e la vita in eterno non ha detto che qui c'è la vita dove è la vita fuori al parco in giro nei pub per le strade dove è la vita la vita Dio l'ha stabilita in mezzo al suo popolo qualunque morto può entrare qui qualunque persona morta nei falli e nei peccati il Vangelo può rialzare la Chiesa può trasmettere la vita che ha ricevuto come il tralcio che l'ha ricevuta la ninfa vitale e che noi a nostra volta ce la trasmettiamo gli uni gli altri a modo di edificazione e di incoraggiamento la Chiesa non solo è chiamata a rialzare e non solo è chiamata a portare guarigione ma la Chiesa è chiamata anche a incoraggiare a riprendere nel cammino in questo caso non gli fu detto a Paolo rinuncia vai avanti è un percorso che devi fare noi pregheremo per te noi ti incoraggeremo noi ti sosteremo lascia perdere i giudei che ti avrebbero voluto morto non li da retta nessuno può fare nulla sulla tua vita chi ha messo la mano sulla tua vita è il Signore noi siamo chiamati a incoraggiarci gli uni gli altri in questo meraviglioso cammino se la Chiesa si fortifica in questo forse non avremo mai un titolo forse non avremo mai un nome forse non avremo mai le coppe speriamo di non averle mai le coppe o gli scudetti alcuni hanno bisogno di questo speriamo noi mai speriamo di essere chiamati semplici discepoli ma che sono in grado di portare avanti quello che Dio ha messo nella loro vita alziamoci all'impiedi e preghiamo il Signore alleluia grazie